Ciao a tutti, oggi prepareremo le bietole al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono bietole, salsa di pomodoro, pomodorini tagliati a metà, sale, pepe, se vi piace un pizzico di peperoncino, olio evo, aglio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. E facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro. I pomodorini, l'acqua, il pepe e il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Mettiamo sopra il varoma con le bietole, chiudiamo e facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Adesso trasferiremo le bietole all'interno del boccale. Adesso facciamo cuocere per 5 minuti. Temperatura varoma. anti-orario, velocità 1. Le bietole sono cotte, aggiustare di sale e di pepe e servire. Bietole al pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta. Bietole al pomodoro. Grazie a tutti. Bietole al pomodoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.